Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio alle spalle della cappella eucaristica del Santissimo Sacramento. Proprio questa immagine, questa grande vetrata intitolata alla didachè, che porta il pellegrino alla preghiera in questo punto importante della chiesa di San Pio da Pietrecina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi uno spaccato, un passaggio della vita del Santo di Pietrecina, ecco, dedicato al suo cuore, dove ad esempio uno dei suoi figli spirituali fa notare questo, il suo amore, le sue premure, le sue delicatezze non potevano essere di una persona umana, data la portata, la vastità di quei sentimenti che lui dimostrava di possedere dentro. doveva pensare e badare troppo ai suoi figli e nel cuore di Padre Pio batteva il cuore di Gesù. Ecco, proprio di questo vogliamo parlare, di un fatto particolare che arriva direttamente dalla famiglia Fusco di San Martino in Pensilis, un piccolo paesino in provincia di Campobasso. Questo ce lo racconta Fran Marcellino e Asenzaniro nelle sue testimonianze, il padre, la missione di salvare le anime. Ecco, la famiglia Fusco aveva stabilito con tutti i suoi membri i rapporti di familiarità, confidenza. Ecco, i privilegiati però erano i maschietti che salivano spesso in convento e potevano così trattenersi con Padre Pio. A volte mentre studiava e si ritirava in biblioteca, dove a volte li confessava anche. Vi tengo tutti scolpiti qua e faceva riferimento proprio al petto, si toccava il petto Padre Pio. Questo momento che arrivava nel momento in cui appunto si congedava con loro, che facevano ritorno poi al paese in provincia di Campobasso dopo le frequenti visite della famiglia Fusco. Ma questa famiglia, così fortunata anche per l'amicizia che aveva con Padre Pio, subì una grande prova. Durante l'ultimo conflitto mondiale, due figli, Alberto e Salvo, furono chiamati alle armi. Partirono, ma non fecero più ritorno a casa. Il primo fu disperso in Russia, l'altro in Africa. Padre Pio ha la notizia luttuosa portata dai familiari, quasi scusandosi per non aver potuto risparmiare ad essi quella tragedia, gli disse «ho offerto la vita per essi, ma non sono riuscito a salvarli». La tragedia ha stagnato per sempre quella famiglia. La sorella Maria in una confessione disse a Padre Pio, espresse tutta la sua angoscia, disse «sto in croce». E Padre Pio rispose «eppure con la corona di spine». Ma il primo cuore a sanguinare era proprio quello di Padre Pio, proprio per il dolore che si andava a rinnovare tutte le volte che i componenti di questa famiglia, che arrivavano appunto da San Martino in Pensilis, mostravano sul viso questo segno della tristezza, segno varcato dalle lacrime. E lui un giorno gli disse «vorrei non vedervi più, eppure ci tengo tanto».